Continua l'incessante lavoro da parte della Compagnia dei Carabinieri di Andria con l'ausilio delle unità cinofili del Nucleo Carabinieri di Modugno. Quest'oggi sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, due cinquantenni minervinesi e due spinazzolesi di 49-25 anni. Al termine di approfondimenti investigativi, a seguito di numerosi riscontri sul territorio, decidevano di porre un servizio di controllo all'interno dell'azienda agricola di Minervino Murge, situata in contrada Boschetto. Al termine dell'operazione i Carabinieri hanno sequestrato 63 kg di marijuana, con l'ausilio di un velivolo da parte del Sesto Eli Nucleo di Bari, attraverso una completa panoramica dall'alto, sono state sequestrate 400 piante dall'altezza media di due metri, oltre all'impianto di irrigazione. I quattro arrestati, infine, sono stati associati presso la casa circondariale di Trani con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.